Ti voglio parlare di un concetto molto importante se soffri di dolori diffusi e se pensi di avere dei problemi legati alla postura. Una delle cose principali che bisogna capire è il concetto della capacità posturale. La capacità posturale è la capacità che ha il nostro corpo, tendi, muscoli, sistema nervoso di sopportare situazioni, posizioni, posture non proprio comode. Quindi se mi metto in una posizione strana e dopo 5 minuti mi tira la schiena, mi fa male il collo, mi ha dolore alla spalla, significa che ho una ridotta capacità posturale. La capacità posturale si riduce man mano che andiamo avanti con l'età purtroppo e si riduce con la sedentarietà e si riduce quando evitiamo di fare determinati movimenti. Per migliorare la capacità posturale dobbiamo andare ad allenare il nostro corpo, il nostro sistema nervoso ad essere più flessibile, ad essere più mobile, ad essere in grado di sopportare situazioni, posizioni, movimenti ai quali non è solito a fare. Quindi se non sono in grado di fare una determinata cosa devo allenare per farla.